Buongiorno a tutti, buonasdias a Tolos. Oggi il nostro piatto sarà guance di maialino, zucca, scarola e culissa ai frutti rossi. Per questa ricetta abbiamo bisogno di cipolla, carote, scarola, guance di maialino, zucca, sedano, anice stellata, pepe in crani, sale, due cucchiai di limone, frutti rossi, carote. Andiamo a massaggiare la nostra oligia e diamo un aggattato di pepe. Intanto facciamo soffriggere le nostre verdure. Andiamo a soffriggere le nostre verdure che poi andremo a bagnarle con il vino rosso. Ecco le nostre verdure che le andiamo a bagnare con il vino rosso. Cucchiamo le nostre guance. Appena passati 3-4 minuti andiamo ad aggiungere l'anice stellata e il pepe in crani. E cuociamo le nostre guance a fuoco lento per due ore. Ed ecco la nostra zucca che ora andremo a cuocere in forno a 170 gradi e lasciamo cuocere per 30 minuti. In un bentolino alto andremo a fare il nostro culissi. Mettiamo i nostri tutti rossi, ribes, more e more nere e il nostro zucchero. E andiamo sul fuoco. Andiamo a dare un minuto. Il nostro culo di limone lasciamo cuocere a fuoco vivo. Ora vi insegno un piccolo segreto che a me piace molto. Io vado a mettere anche un po' di menta per dare quel tocco di profumo. E la togliamo da freddo. Ecco il nostro culissi che ora andremo a passare. Ed ecco il nostro culissi una volta passato. Abbiamo messo un filo d'olio, uno spicchio d'aglio e andiamo a mettere la nostra scarola. In questo pezzo andremo a cuocere la nostra scarola all'incirca due minuti. Ed ecco la nostra scarola pronta. Andiamo ad assemblare il nostro piatto. Se vogliamo dare anche un tocco al nostro piatto andiamo a fare un piccolo tagliettino in modo che i nostri guangi rimandano in piedi. E andremo a comporre il nostro piatto. E infine andremo a mettere il nostro culissi che darà il contrasto alla nostra guancia di maialino. Ed ecco il nostro piatto guancia di maialino, zucca, carola e culissi ai frutti rossi. Buon appetito!